Piazza Pertini come nuovo fulcro del commercio di Ancona, una parte interamente coperta per i commercianti del mercato delle erbe, un'altra semicoperta per le bancarelle di Corso Mazzini, da dislocare anche in via Castelfidardo e zone limitrofe, dopo lo sfratto dato dal prefetto dorico Paolo Rei. Lo spostamento del mercato delle erbe avverrebbe per sistemare l'attuale edificio e cogliere al balzo l'indicazione del prefetto via i bancarellari per ripensare una delle piazze meno utilizzate della città. E' questo il progetto a cui lavora il comune di Ancona per trasferire gli ambulanti e sarà questo schema ad essere presentato ai commercianti nell'incontro prima fissato per il 4 aprile, poi spostato al 15 per non arrivare a mani vuote. Gran Millano e la Giunta non vogliono farsi trovare impreparati, dalla loro gli ambulanti prendono tempo, congelato lo sciopero previsto per lunedì, banchi vuoti come protesta e sabato si decide il da farsi. Il trasferimento delle bancarelle intanto apre divisioni tra le categorie, la Confartigianato, l'attenso struttura a costo 50.000 euro che vorremmo realizzare in piazza Pertini, non ha a che vedere con gli ambulanti, serve per i nostri eventi a partire da ciò comarche. L'associazione artigiana era stata accusata di spingere per il trasferimento, intanto i prossimi eventuali vicini aspettano l'arrivo delle bancarelle e parlano di un'occasione per loro e per gli stessi ambulanti. Se uno vuole comprare segue dove è abituato a comprare e dove andare, speriamo che ci vieni gli ambulanti, se non andiamo alla baraccola è tanto che lo aspettiamo. Siamo contenti se un mercato a sede fissa venga sulla piazza Pertini perché io ho tanto tempo che dico che questa piazza deve essere sedata solo al commercio. I bancarellari se non vogliono venire a volte hanno anche le loro ragioni e io li posso anche credere perché con un comune come questo, se loro li portano in piazza Pertini e dietro non c'è un'organizzazione, questo è peggio.